Musica Cioè hai sentito che hanno appena rapinato la villetta qui di fianco? Ah ci sono delle gran rapine in tutte queste ville, qui io sono preoccupato, vabbè anche io non ho una villa, però... E se vengono qua cosa ti rubano? Hai una cassaforte? Sai che adesso bisogna avere due? Una cassaforte piena e una vuota Ah così li freghi? Eh sì, perché nella vuota non si metti niente da lì dici, guarda, io con la cassaforte lì non c'è niente dentro E l'altra, testa di zitto, la lasci da una parte Hai una cassaforte? Sì, vedi, questa qui è la mia cassaforte, no? Ah, questa è dentro Quindi dentro ci sono tutti i miei risparmi Ah è vuota Appunto Ah ok, ah questa è l'altra Hai capito? Bravissimo Allora, qui, allora io ho questo, qui c'ho 2000 euro Ok L'unico soldi che ho, il resto li ho in banca Perfetto, allora questi qui li mettiamo in un'altra cassaforte E poi facciamo credere al ladro che questa Bravissimo, allora questo lo mettiamo qui Ok, no, caso mai vieni sul ladro? Casomai vieni sul ladro? Gli diciamo, questa è la mia cassaforte, prendiamo quello qua, non c'è un cazzo Non c'è un cazzo Sì, ma te non hai paura che venga veramente un ladro? Ah ma c'è anche l'antifurbo? C'è l'antifurbo? E come funziona? C'ho fatto un buco davanti a casa Se il ladro non è stupido non ci passa E se è stupido? Quindi d'altronde Se venisse mai un ladro siamo furtati Noi siamo preparati Oh, da quel lato poi magari avevo un ladrino Dì che sono quelli poco furbi, no? Quelli che arrivano a spaventare la gente Ma noi siamo uomini di ferro Io con te vicino non ho mica paura Con te vicino, ma poi fai così, la gente scappa Oddio, fin lì avrei da dire Ci vuole un po' di coraggio Cosa è sto rumore? Sento di... Sarà... Cos'è? Ma hai il gatto? Che è? È una rapina Una rapina Ma che so poco poi Quale delle due? No! Ne hai due? Ma che c'è? No, no, una È che lui si confonde Ha dei problemi È dislessico Ha dei problemi? Lei è un ladro sfortunato Perché vende i cazzi di l'adro? Ah, per la cazzo qua Con calma Non agiti l'arma perché quella lei potrebbe... La combinazione la sai te? Io no, la tua La combinazione la sai? È la tua! Tornate le gniaste 21 giugno 87 No, con il mio cugino Capi la cassaforte Eccola! C'è ma... Questi sono i miei risparmi Capi l'altra Ah, sei scemo Adesso ci siamo Come faceva a sapere che ne vanno due? Perché sei un pirla E tu sei un pirla? Sì, perché sei un pirleno anche più grosso di me E tu sei un pirleno? Hai capito? Sei un pirleno col pancione Ti ho offeso? No, è un po' No, no Tanto sono a dieta anch'io Sono a dieta anch'io perché E i 2.000 euro? Ti li ha presi di lato? Ah, li ha presi di lato? Eh, sì Bene Mi sembra giusto Così io lavoro La gente... Però ti sta bene Se stavi zitto Potresti provare... Un bottone non si compra niente con un bottone Non credo Questo è l'unico risparmio Aspetta 50 centesimi Cominciamo a risparmiare Ah, dai 50 centesimi Un bottone E 50 centesimi Via Bene Ah, via risparmio Sì, arriva qualcun altro 50 centesimi 50 centesimi Così il ladro ha i soldi per comprarsi la pistola Visto che avrà fatto comunque... C'era un martello Ah, vai, vai, vai Andiamo fuori che qua Grazie a tutti